Perché i poteri forti stanno fuori dal Parlamento, ma dentro, dentro c'è chi esegue. E noi, il popolo del PD, non ha più l'anello al naso, ok? E la stampa, ripeto, ha una grossa responsabilità. Per mesi avete picconato, deriso, chi si è assunto sopra le spalle è una responsabilità epocale. Scusate, basta, non era previsto. Non era previsto. Scusate. Lei parla di Zingaretti? Ma io non sto parlando di Zingaretti, io sto parlando della situazione nazionale, scusate. Lei dice qualcuno che si è assunto una responsabilità epocale. Chi ha fatto cadere il governo si è assunta una responsabilità. Non giochiamo, non giochiamo. È quella la responsabilità a cui mi riferisco. Le dimissioni di Zingaretti, la questione del... È chiaro che poi, come dire, fatto fuori quel tassello che era l'amalgama, a pioggia, dopodiché tutto diventa più precario. Insomma, quando parliamo di responsabilità non facciamo confusione.